L'Ape vuole diventare una regina del campionato, ma gli avversari di oggi sono alle porte della zona playoff. Amici appassionati della palla spicchi, buon pomeriggio da Fanner, reporter Allone Sports City va in scena la giornata numero 13 del campionato di Serie B, HSC contro Scauri. Tutto pronto per l'inizio del match, HSC con la classica tenuta bianca, Scauri con la divisa azzurra, palla 2 che viene conquistata da HSC con il balzo di Foucault. Bruni va da Wisnich, quindi Aristide Moua va subito in accelerazione Moua e fa subito male agli avversari. Aristide Moua ha colpito una difesa di Scauri un po' disattenta con una stoccata e una schiacciata. Piede da parte dello stesso autore del precedente canestro con Moretti che è pronto a giocare in direzione di Granata. Fuori per Ricciotti, scarico in angolo dove lo stesso Moretti va dal lungo Loguzzi che si prende il tiro sulla sirena. Palla di fatto persa per Scauri. HSC che va con Bruni, con Wisnich scambiano i due giocatori più esperti, anzi gli unici di fatto giocatori esperti di questa squadra. 4-0 dopo un minuto Ricciotti. Palleggio e scambio con Granata dagli 8 metri si appoggia a Moretti. quindi penetrazione tentata e altra palla persa. Sarà forse contesa, Wisnich la tiene, è così contesa. Si ripartirà quindi dalla rimessa da fondo campo per Scauri. La squadra di Fabri non ha cominciato al meglio, ha rischiato anche qui di perdere sul secondo possesso. Loguzzi, scarico in angolo, tentativo da tre, a rimbalzo Wisnich che va da Bruni. È un HSC che prova ad alzare subito i ritmi. Bruni, Wisnich porta il blocco, quindi Bruni, Foku, Mua, spalle al canestro, prova a girarsi sul piede perno, subisce la stoppata di un paziente Longobardi. Ricciotti non riesce a posizionarsi sotto canestro Scauri che va comunque grazie ai blocchi al tiro con Longobardi che può così infilare i primi tre punti per gli scauresi. Wisnich, Bruni, Bruni va a cercare e a trovare adesso Foku che si avvita e mette il primo canestro della sua partita. 6-3 Scauri che prova a rispondere con Longobardi, finta il tentativo da tre, poi dalla media, il tentativo è corto. Bruni prova ad uscire, aspetta il blocco di Wisnich, Bruni cambia passo, subisce fallo e c'è anche, se non vado errato, antisportivo. Bruni ha alzato il braccio e il direttore di gara sotto la nostra postazione e allora libero per Bruni mette il primo mette anche il secondo la rimessa è dunque per HSC Mua, aspetta l'uscita dai blocchi di Bruni Bruni chiede aiuto a Wisnich, si porta sempre sulla parte sinistra, poi sulla parte destra, affonda il numero 15, vada a Mua Ancora Bruni, due secondi, Wisnich prova addirittura da tre, un tentativo decisamente forzato che si spegne sul primo ferro, poi sul tabellone Longobardi Ricciotti va sotto Ricciotti palla perfetta per la corrente Loguzzi 8-5 Mua Mua Wisnich Bruni prova ad infilarsi sotto canestro il passaggio quindi a Wisnich che segna nono e decimo punto per HSC Scauri Scauri sembra un po' in difficoltà quando gli avversari accelerano come in questo caso anche se si va a prendere un fallo evitabilissimo Aristide Mua strigliato da coach B. Zozzi per aver forzato il tentativo Ricciotti Longobardi ha fatto male da quella posizione Longobardi e rifò male un'altra volta da HSC accorciando le distanze 10-7 canestro pulito con finta del numero 35 Mua stavolta parte da lontano in ala c'è Bruni e c'è il fallo chiamato a Granata con la conseguente rimessa HSC terza infrazione di squadra anzi seconda scusate infrazione di squadra per gli ospiti Focu libero di tirare prende il primo ferro Wisnich superato al rimbalzo stoppatona di Loguzzi poi si accende la mischia altra palla contesa davvero bella l'esecuzione di Loguzzi che con una stazza superiore rispetto all'avversario è riuscito a far valere i suoi centimetri e la sua forza fisica De Simone fa il suo ingresso in campo si piazza in posizione centrale per il tentativo da tre Focu è pronto a portare il blocco assieme a Wisnich all'interno del quadrato vediamo se uscirà come probabile Mua da questa situazione dieci secondi sul cronometro Bruni va addirittura da Focu quindi Mua chiamato lui questi ultimi sei ci pensa da tre ci prova sbaglia e allora riparte Scauri con la tripla tentata sul ferro Wisnich Bruni ribaltamento rapido in tralsezione altro fallo terzo fallo di Scauri speso decisamente bene Mua di fatto è un giocatore che quando prende velocità è molto difficile da fermare De Simone Bruni sfrutta il blocco di Focu va da Wisnich finta da tre poi si gira Wisnich con tutta la potenza che possiede a rimbalzo De Simone il suo tocco è corto Ricciotti va il numero cinque finta e prova qualcosa di impossibile si prende comunque i due tiri liberi Scauri per la prima volta in lunetta Ricciotti sbaglia il primo mette quindi il secondo 10-8 Bruni fronteggiato da Moretti palla stupenda per Wisnich che sbaglia il primo canestro non il secondo HSC sul 12-8 Moretti sfrutta il blocco di Loguzzi potrebbe servirlo va invece da solo risponde colpo su colpo Scauri Mua esce De Simone Mua lo guarda va invece da Focu sotto canestro c'è Wisnich che sfida Loguzzi lo prova a superare con un canestro più distinto che di tecnica quasi a due mani ha infilato due punti Wisnich allora Ricciotti Loguzzi Granata si spegne sul ferro il suo tentativo poi in due rimbalzo in un'area decisamente vuota di uomini scauresi Bruni fallo alla difesa chiamato a Granata quarta infrazione e dunque in bonus Scauri lo stesso numero 10 autore di due falli si accomoda in panchina fa il suo ingresso in campo Atata con la maia numero 8 si appoggia in marcatura su Mua che esce comunque bene dai blocchi riceve il numero 10 vada De Simone sotto canestro Wisnich non c'è nessuno a rimbalzo Focu prova lo stesso e non è la scelta giusta Ricciotti mette velocità scarico fuori Longobardi finta entra ci prova mette due punti si prende anche la lunetta Bruni dopo l'errore di Longobardi Focu Wisnich doppio ferro per il numero 23 Ricciotti in transizione affonda il 5 scarico sull'angolo tentativo da 3 che va sul ferro quindi Focu Wisnich Mua prende velocità il numero 10 si ferma aspetta con pazienza HSC ha bisogno di un canestro senza forzare la mano ci sono 14 secondi sul cronometro Wisnich porta il blocco Bruni che scarica in ala quindi Wisnich tiro corto con una mezza stoppata degli Oguzzi e allora Ricciotti ancora in transizione Scauri prova a far male scarico in angolo tripla tentata altro doppio ferro questa volta di Granata anzi Moretti Kevin Zie prende il posto di uno stanco Wisnich esce anche Loguzzi entra al suo posto Mili Saljevic Longobardi 14 sul cronometro per Mili Saljevic quindi ancora Longobardi forza da tre tiro sporcato raccoglie Focu che al rimbalzo difensivo è stato perfetto fino a questo momento Bruni Giaie favorisce il movimento di Mua adesso Mua apre o quantomeno ci prova le porte a Bruni riceve poi il numero dieci aiutato da Focu arretra palla per Focu stupenda Miaie entra in partita ma la perde e allora Bruni due sul cronometro un secondo tentativo quasi impossibile Scauri ribalta e va con Mili Saljevic che prova ad alzarsi mette due punti Scauri impatta sulla partita 14 a 14 entrambi i coach non hanno speso il time out chissà che non lo faranno Bruni ora ci riprova da tre questa volta nonostante il tentativo sia forzato finisce dentro la retina più tre HSC Longobardi punta Focu si ferma tiro da tre sul ferro Ricciotti scivola malamente travolge De Simone ha rischiato davvero grosso il numero dieci e rimane anche a terra il numero cinque non sembra comunque nulla di grave si ripartirà forza per Scauri Longobardi ribalta da Moretti forza al tentativo prende il ferro Mua Bruni due possibili possessi per HSC questo compreso prima della fine del quarto Mua cambio di passo ancora di Steed Lilli si alza e ci prova prende il primo ferro possesso HSC con 14 da giocare prima della fine del quarto anzi scusate con 25 da giocare prima della fine del quarto 14 prima della fine dell'azione Bruni prova a sfruttare il blocco il numero 15 scarico fuori dove c'è Reali tiro in sospensione prova a raccogliere Lilli ribaltamento di fronte dove Mua tocca non basta comunque per rubare il possesso a Scauri che potrà giocare con questa rimessa dal fondo 10 e 0 2 al termine del quarto Bruni non ruba il pallone 5 secondi prende velocità quindi Gallo va sotto Gallo esagera e con fortuna Mili Saljevic sulla sirena manda i suoi sul 17 a 16 grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. HSC che aveva cominciato fortissimo per poi sgonfiarsi dove i primi 4 minuti, Scauri ha fatto il suo ed è rimasta pienamente partita. Sempre tentativi poco forzati. Dei ospiti che ora giocano la prima palla del secondo quarto con Longobardi, probabilmente il migliore dei suoi fino a questo momento. Reali accelera, mette il canestro. E' quello del sorpasso. Bruni. L'Oguzzi è fuori e dunque è una difesa più bassa quella di Scauri. Riconquista comunque il possesso. La squadra in maglia blu. Gallo va da Moretti. Sotto canestro. L'errore ricezione e il fallo subito da Wisnic. Coach Fabri si lamenta intanto con Moretti per l'errore di passaggio verso Milisadievic che sembrava perfettamente in grado comunque di agguantare questo pallone. Doppia persa da una parte e dall'altra. Bruni. Reali si porta sotto canestro. Wisnic fa sportellate con Milisadievic. Mette due punti e non sono validi per il fallo in attacco del numero 23. Moretti. Longobardi. Bravo dalla lunga che dalla media. Adesso dalla lunga distanza ci pensa Atata che porta sul più 4 Scauri. Mua. Fa qualcosa di pazzesco. Peccato che il canestro non sia valido. aveva fatto qualcosa di straordinario. Con un canestro in rotazione. In sospensione. Bruni. Mua. Si alza questa volta. Il tiro avviene quando sarebbe stato valido. Quindi Gallo. Cambio di mano. Cambio di passo. Milisadievic. Arrimbalzo Aristide Mua. Bruni. La porta il 15. Chiede i blocchi. Va da Wisnic. Gira sul lato debole HSC. E va a mettere tre punti con Reali. Che manda al time out Scauri. E va a mettere tre punti con Reali. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con Ricciotti dopo il time out. Cerca e trova Milisaljevic che la perde. Bruni prova ad accelerare. Ancora Bruni. Sbaglia. In transizione con la difesa che si era già schierata. Ricciotti. Cerca e trova Longobardi. Subisce ancora fallo il 35. Prestazione davvero importante. E time out chiesto da Scauri. Grazie. 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 Pronti a riprendere le ostilità. con Ricciotti. La Guzzi è pronta a portare il blocco forse per Longobardi. in realtà esce e riceve Atata. Giocata pessima di Scauri. a sua discolpa però la squadra ospite può dire di aver affrontato una difesa perfetta da parte di HSC. Bruni. Cerca e trova Aristide Moua. Penetra il numero dieci. Calpesta la linea laterale. Scivolando. Si arrabbia con se stesso il numero dieci. Si schiaccia HSC. Bisnic in marcatura sul play. e Ricciotti smatch in velocità. Penetra. Scarico fuori. Sul primo ferro. Il tentativo di Gallo. E allora Bruni. Altra rubata questa volta di Scauri. Quindi Ricciotti. Si ferma. Su questa recuperata. Longobardi. Ha due avversari addosso. Fa densità. Su di lui la difesa di HSC. Gallo. Ricciotti. Commette fallo Wisnic. Che lamenta un colpo al volto da parte del numero sei. Del numero cinque. Scusate. Altro cambio. Esce Nzie. Subentra De Simone. Non una buona prova del numero 39. Sicuramente un po' acerbo. Tanti i giovani comunque di HSC. in campo. Ricordiamo. Squadra composta di fatto. Solamente tra due senior. Bruni. E Wisnic. Longobardi. Si avvita. Va da Moretti. Quindi Ricciotti. Si prende la responsabilità del tiro. E lo mette. 22-23. Bruni. Wisnic. Muha. Accelera. Nella sua posizione preferita. Va a far male. Alla difesa ospite. Longobardi. Arresto e tiro da tre. Più due per Scauri. Botta e risposta. Wisnic. Cerca Bruni. In avvitamento. Pol Di Simone. Sfortunato. La colpisce col volto. La palla è ancora buona per Bruni. Fitta a tiro da tre. Va da Reali. Da quella posizione ha fatto male. E ha mandato il timeout precedentemente Scauri. Stavolta non va il timeout Scauri. Ma HSC riesce a pareggiare. Longobardi sul primo ferro. Sul primo ferro. Bruni. Subisce il fallo. Si accusa. Gallo. È sempre una situazione molto pericolosa questa. Da due anni a questa parte. Quando il play va in transizione si rischia spesso di incappare in un fallo antisportivo. Cosa che peraltro è già avvenuta su Bruni nella stessa posizione nel primo quarto. Wisnic. Reali. Wisnic apre un barco per Reali. Che va sotto canestro. Quindi Wisnic. Finta. Manda letteralmente al bar. Il diretto avversario. Si prende questi due punti. Altro fallo stavolta di Desimone sul Longobardi. Ne ha subiti tantissimo il numero 35. È l'arma migliore in attacco di Scauri. Lo sanno i giocatori di HSC. Adesso coach Bizzozzi sta facendo spendere un po' di falli a giro sul 35. Che è bravo sia dalla lunga che dalla media. Laguzzi. Ricciotti. Si alza. Prova da due. Il suo tentativo è corto fallo su Mua. Anche Ricciotti si accusa. Rischiato parecchio il numero 5. Ha fatto in tempo a mettere il corpo davanti. E a commettere il quarto fallo per Scauri. Entrambe le squadre sono in bonus. Si andrà in lunetta alla prossima infrazione. Reali. Penetra in aria. Prova ad aiutarsi col tabellone ma non riesce. Ricciotti. Longobardi. Spida. Falleggio. Sotto dietro la schiena nei confronti di Wisnich. Moretti. Ribaltamento. Longobardi che ha iniziato l'azione. Subisce fallo. va in lunetta. Vai lunetta. Grazie a tutti. Il primo Longobardi. Mette il secondo con l'aiuto del ferro e del tabellone. Wisnich. Mouha. Wisnich apre il barco per il numero 10. Che sfida tutta la difesa avversaria. Moretti, Ricciotti si ricompone la difesa di HSC. C'è tanto spazio per Laguzzi che non va a tirare. Indovinate chi si prende. L'ennesimo fallo è il numero 35 scaurese Longobardi. L'ennesimo fallo è il numero 35 scaurese. L'ennesimo fallo è il numero 35 scaure. L'ennesimo fallo è il numero 35 scaure. Reali va da Mouha. Viene fuori e tocca la sua prima palla di Paolo. Scarica e si posiziona in ala. Stoppata di Longobardi. Ha fatto anche questo il numero 35. Quindi Laguzzi va da Longobardi stesso. Ha tanto spazio. Va in angolo per il tentativo sul ferro di Moretti. Quindi Mouha. Partita che ora subisce una fiammata da parte di entrambe le squadre. Aristide Mouha. Wisnic si posiziona sotto canestro. Prova ad aprire il barco. Ci riesce per Mouha che prende il ferro. Rimbalzo di Longobardi. Moretti. Ricciotti. Moretti attacca sempre da quella parte Scauri. Con Moretti che mette la tripla. È il canestro del più 4 per Scauri. Reali. Di Paolo viene fuori a portare via Moretti. Wisnic. Appane per i sedenti con Laguzzi. Mancano 3 secondi. Ribaltamento che favorisce la tripla di Reali. Accorcia di nuovo HSC con questa bomba. Laguzzi. Longobardi. Lo affida a Mani Sicure la palla. E quando ce l'ha lui. Oggi. Il risultato è sempre lo stesso. Ovvero. Punti per Scauri. Che rimane sul più 3. Quindi Reali. Ci pensa di nuovo. Questa volta. Senza ritmo. E allora Longobardi. Sfida gli avversari. Scarico. Ed è fallo in attacco. Bravissimo. A Estitemois a piazzarsi. Ad incassare il colpo dell'avversario. Si accusa il 35 dell'infrazione. Bruni. Il 15 va da Reali. Gli concedono tanto spazio. Ha fatto male però il numero 14 dall'arco. Bruni. 7 secondi. 6 secondi. Bisnic. Stoppata di Laguzzi. E allora Ricciotti. Per Atata. E palla rubata da Di Paolo. Tra l'ovazione del pubblico. Laguzzi. Ricciotti. Penetra Ricciotti. Questa volta Di Paolo in ritardo. Atata dall'angolo. Longobardi ancora a rimbalzo. Il 35 va da Laguzzi. Sfida a Wisnic. Longobardi. Non si comprende con Atata. E allora HSC può chiudere in attacco. Con Bruni. Ultimo possesso. 10 sul cronometro. Vediamo se si prende la responsabilità di andare al tiro numero 15. E' così. In avvitamento. Prova ad entrare. Scivola. Poi va da Di Paolo. 0 sul cronometro. Non c'è fallo. Si va a riposo sulle 31-34. Grazie per la mano a direttamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti posso... Grazie a tutti. 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 Non è perfetto nel controllo, calpesta la linea. Palla persa per la squadra di coach Bizzozzi, parecchio arrabbiato in panchina. Ricciotti. Ricciotti. Si sviluppa a destra. Per fronte d'attacco l'azione di Scauri che tendenzialmente invece ha sempre attaccato dalla parte sinistra che è la preferita proprio di Longobardi che ora è accoppiato con Focu. Longobardi proprio viene fuori, incassa il blocco Focu. Un 35, allontana la palla da Muà. Poi va da Ricciotti. Ricciotti ribaltamento sul lato debole, tiro da tre sulla Sirena. Di Casoni. Di Casoni. Più 6, Scauri. Bruni. Focu. Ancora Bruni. Il numero 15 alza la parabola del Libero. Mette il primo e mette anche il secondo. Ricciotti. Vai il 5 da Moretti. Porta il blocco Laguzzi. Moretti verso Casoni. Laguzzi. Moretti. Altro tentativo da tre. Il ferro sputa fuori. Bruni. Bruni. Può rimediare al break subito HSC. Muha. Wisnic. Bruni. Scambio con Wisnic. Bella giocata di Wisnic. Elegante anche il numero 23 in questa realizzazione che vale il meno 2. Muretti. Casoni. Stavolta non è fortunato nel suo tentativo. Quindi Bruni spende il fallo Laguzzi. Bruni. Era in difficoltà in transizione. Scauri. E allora il lungo ha deciso di mettere il corpo per impedire la penetrazione di Bruni. Esce Muha. Sfida Longobardi. Poi va da Reali. Bruni. In ala. Senza ritmo. Mette la tripla. È quella del sorpasso dell'HSC. Vecci. Fallo poi del 15 che rischia tanto protestando col direttore di gara. Ricciotti. Vede un fallo di Foccu. L'arbitro. Laguzzi. Riporta la distanza. E riporta avanti Scauri. Foccu. Muretti. Muretti. Il dodici. Va dalla Guzzi. Fallo di Muha che alza il braccio. Se ne accusa non comprende comunque la decisione dell'arbitro. Longobardi va a subire l'ennesimo fallo. Muretti. Ancora Longobardi. È qui. Sta davvero facendo quel che vuole il 35. Bruni. Muha. Subisce fallo. Muretti. Muretti. Longobardi 17 punti. 4 su 6 da 2. 2 su 4 da 3. Ma da notare i falli subiti 8 da parte della difesa di HSC che non ha ancora preso le contromisure. come dovrebbe. Come dovrebbe. Bruni. Va da Poccu. 5 secondi. Fallo di Muretti. Bruni. Bruni. Vada Poccu. Vada Poccu. Quindi Viznic. Bruni. 5 secondi. Prova ad andare il 10. Viene però fermato da Scauri. Casoni. Penetra. Finiscono i secondi. Perde il pallone. Muha in transizione. Aristide Muha. Poccu. 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 È arrivato in cielo. È subito fallo il 47. 7. Poccu. 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 Anche il secondo assegno Longobardi si alza dalla media Stavolta non ha messe il suo diciannovesimo punto E allora Bruni va fuori da Reali Quindi Wisnic, finta Passetto per il tiro da tre Che il canestro rifiuta Ricciotti Laguzzi Laguzzi ci prova da tre Sul ferro Ricciotti Fuori dalla Guzzi Finta su Mua Fallo del 10 Che sorride Si accusa comunque del fallo Alza la mano Alza la mano Laguzzi 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 In posizione di play Ricciotti Atatà Prova ad entrare Sarebbe stato forse uno dei canestri più belli della gara Se non il più bello Il ferro dice di no Bruni Adesso è stato forse uno dei canestri più belli della gara che si accoppia con l'altro lungo che è Laguzzi Reali Reali 6 secondi 5 secondi Rimane a terra il 14 quindi senza ritmo senza tempo Wisnic Poi Longobardi la perde e ristoppa l'avversario Si accende la partita Reali Tutto in parità Entrambe le squadre in bonus Bruni Va da Focu A tempo Spazio Rinuncia al stile da tre Quindi Bruni Si alza dalla media Prende il ferro Rimbalzo è di Laguzzi Medie bassissime Per le due squadre in questo secondo quarto Longobardi Punta Focu Va a cercare Atatà Fallo antisportivo Subito dall'otto Anzi commesso Scusate dall'otto Arrabbiatissimo Fabri Bruni in lunetta E' il secondo antisportivo subito dal 15 Mette il primo Anzi no Ho parlato forse troppo presto Focu Bruni Uno su due dalla lunetta Focu Wisnic Sbaglia un rigore Di fatto Wisnic Quindi Bruni Dalla media Ferro Ancora Bruni Azione confusa Ma comunque HSC Sul doppio rimbalzo Ci riprova Alla terza volta La palla è di Scauri Longobardi Longobardi Ricciotti Longobardi Raddoppiato il 35 Ricciotti Finta Entra in area Doppia finta Con la mano destra Appoggia qualcosa che fa Applaudire Di fatto Tutto l'Onaisport City ie Guiti Guiti Angelo Angelo Guiti Guiti Boc Guiti Accelo Guiti ior Longobardi, si alza di nuovo Longobardi! Longobardi, più uno per Scauri, che risponde colpo su colpo. Reali, ultimo minuto del terzo quarto. E sarà un quarto quarto caldissimo. Va a fare pallo Poku, con la mano sinistra spinto vistosamente. 5-6 al termine, possesso Scauri, che può chiudere. Volendo a più tre, Laguzzi trova Atata, Ricciotti. Si prende la responsabilità della penetrazione, quindi Atata, Laguzzi. Fa girare benissimo la palla a Scauri, che però trova solamente il ferro. Quindi Rubinetti, si alza Rubinetti! Sposta l'avversario, che con un bel po' di contatto lo manda fuori tempo. Longobardi a duello, 16 secondi. Longobardi, il tiro è perfetto. È del sorpasso di nuovo di Scauri. Sta facendo una partita pazzesca. Il 35, 4 secondi intanto sul cronometro. Si avvita su se stesso. Rubinetti. È un errore fatale, che permette il possesso a Scauri, anche se c'è un decimo di secondo prima della sirena. Quasi impossibile tirare. Infatti rinuncia, di fatto, forse all'attacco Scauri, che la butterà in avanti per non subire Canestro, più che provare a farlo. Suona la sirena. Era quasi riuscita l'impresa adatata. Grazie. 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 L'Honey Sports City. Bello il blocco portato dal compagno. C'è infrazione di invasione per HSC. Fischiata dagli arbitri. E allora libero non valido. Ricciotti. Atata. Il 6 va da Gallo. Quindi ancora Atata. Prende in controtempo l'avversario. E allora si alza Ricciotti. Quindi a rimbalzo Laguzzi. Imbottigliato sotto canestro. Gallo. Anche lui imbottigliato sotto canestro. Il pallo però è di HSC. Lo ha commesso Dron. Laguzzi. Gallo. Cerca e trova Longobardi che subisce il suo decimo fallo. Palla persa da Scauri. Bruni. Si ferma. Aspetta Vesnic. Lo serve. Vesnic. Va da Dron. Anzi da De Simone. A rimbalzo Laguzzi. Ricciotti. Dobbiamo mettere il canestro. Scauri. Che riporta il più due. 8 e 28. Vesnic cerca e trova. Zie. Non poteva davvero fallire il 39. 50 pari. Longobardi. Ricciotti. Moretti. Ricciotti ribaltamento sul lato debole. E tocca Gabriele Dron. Sarà. Rinnessa laterale per Scauri. Che però ha 5 secondi per effettuare la giocata. La prova con Longobardi. Che forse commette frazione di passi. Il suo tentativo non entra. Bruni. Zie. Sembra essere entrato in partita. Ha il vantaggio dei centimetri eventualmente sul Longobardi. Bruni però commette un errore. Che favorisce comunque Vesnic. E il canestro che manda al timeout Scauri di De Simone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricciotti. Dopo il timeout chiesto dagli ospiti. Ribalta subito. Su Gallo. Non perfetto ricezione. Si alza comunque per provare il tentativo. Sull'arresto e tiro. Rimbalzo di Vesnic. Bruni. 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 Più abile sicuramente sotto canestro che fuori. Il 39. Bruni cerca e trova Vesnic. Quindi Brun. Va da De Simone che ha la mano calda. anzi caldissima altri tre punti per il numero zero più cinque HSC grazie di nuovo Ricciotto Ricciotti dopo il secondo time out chiesto da Scauri break di più cinque creato da Di Simone con gli ultimi due canestri Moretti, Ricciotti, penetra manda fuori tempo proprio Di Simone è bravissimo ad intercettare quindi Di Simone si lancia sul fondo del campo per tenere in gioco la palla purtroppo non riesce e quindi Bisnic subisce un colpo fortuito da Longobardi chiede scusa il 35 5 Ricciotti Longobardi Cerca l'ennesimo sigilo Della sua stupenda partita La mette L'arbitro Stavolta però ha visto un fallo Giocata spaziale Comunque del 35 Non valida Ricordiamo per il fallo in attacco Subito da Wisnic Wisnic Dron Anzi di Simone Ora Bruni Si avvita Bruni Cerca e trova Gabriel Dron Con la mano morbida La lacrima Si deposita in fondo al canestro Più sette Massimo vantaggio Di HSC Ricciotti Trova Moretti Scauri torna a fare punti Dopo tre minuti di digiuno Bruni Zie Potentissimo sotto canestro Meno però Bravo tecnicamente Il 39 Ricciotti Può accorciare Scauri Longobardi Si prende la responsabilità del tiro Stavolta lo sbaglia Zie Di fatto accomoda Il pallone per Moretti Ricciotti Laguzzi Fuori Palla in attacco Non protesta neanche il 14 Possesso HSC Che può tornare sul più 7 Bruni Prova a battere Gallo Si ferma Bruni Certo di lui Laguzzi È molto più rapido il 15 Che infatti Fa fitta e controfitta Poi subisce la stoppata Di Longobardi In transizione Scauri Con Longobardi Dietro la schiena Va da Gallo Perde però ormai L'opportunità Per colpire La difesa scoperta Rivalta comunque Sul lato debole Dove Moretti Mette i tre punti Che permettono a Scauri Di accorciare Mzie Bruni Drone C'è un fallo Sotto canestro Lo commette Ricciotti Su Wisnic Bruni Trova Di Simone Grande ingresso Del numero zero Drone Prova a ribaltare Forza la giocata È ora HSC Che si compiace Un po' troppo È tornata in partita Scauri Moretti Raccoglie Il rimbalzo Va da Longobardi Quindi Ricciotti Si ferma Il 5 Due secondi Prima del tiro Ci mette una vita Scauri Palla persa Cambio Torna in campo Per gli ultimi minuti Aristide Muha Time out HSC Per gli ultimi minuti Prima del tiro Oppi P P P P P Bruni La porta il 15 Nzie Di Simone Wisnic Cerca Bruni Viene fuori Mua Bruni subisce fallo Si incrociano le gambe sue E di Longobardi In fase di palleggio Fallo che potremmo dire Involontario ma che comunque Manda in lunetta Il numero 15 che può Far tornare su HSC che ha sprecato per due volte Il più 7 di vantaggio Su Scauri Che a sua volta era arrivata Al più 4 nel primo tempo Sbaglia il primo Bruni Sbaglia anche il secondo 0 su 2 E fallo commesso D'Anzie In bonus anche HSC Ricciotti Apre per Moretti Mua Difesa aggressivissima Della 10 Aiutato dal raddoppio Di Bruni Prova a ribaltare Scauri Ma difende benissimo HSC 7 secondi Sul cronometro Nzie Quasi la riconquista Poi la perde Difesa di ottimo livello Di HSC La Guzzini Rimbalzo su Wisnic Anche lui mette la latrima E' quella del pareggio 5-7 5-7 Bruni Mua Si ferma Mua Poi sul suo stesso rimbalzo Il possesso è di Scauri Anzi il possesso è di HSC Ha toccato il piede Di Longobardi in caduta Il pallone di Mua Che riceve Sotto canestro E ha cerchiato il 10 Esce e va da Di Simone Che va da Bruni Palleggio Arresto Tiro Perfetto 60-57 Per HSC Ricciotti Moretti Laguzzi Riprova la latrima Stavolta esce Quindi Bruni Si accoppiano I lunghi sotto canestro Bruni si ferma Va da Wisnic La palla è di Laguzzi Che maldestramente Poi si la trascina fuori Prende il 5 Della sua panchina Il 14 E' una palla Molto importante Questa Perché HSC Può allungare di nuovo Ormai A 1.45 Dal termine Ogni canestro E' fondamentale Bruni Mua Prende velocità Subisce il fallo Di Longobardi Che poi rimette la mano Va a chiedere subito Scusa Mua Prende velocità Prende velocità Fuori il primo A rimbalzo C'è comunque Nzie Mua Bruni 6 secondi Cambio di mano Del 15 Va da Nzie Palla persa Ricciotti Può ricucire lo strappo Scauri Gallo Passa in mezzo A due avversari Sul lato debole Ricciotti Sessanta pari A 1.10 Dal termine Bruni Mua Si avvita Scivola E perde la palla Possesso per Scauri Siamo entrati Nell'ultimo minuto Ricciotti Il 5 Temporeggia Sfrutta il blocco Di Laguzzi Perde però la palla Aristide Mua Bruni Bruni Il 15 Prende palleggio Prende velocità Di Simone Ci prova Tiro in caduta E allora possesso Per Scauri 13 13 sul cronometro Ultimo possesso Della gara Può vincerla La squadra ospite Ricciotti Sfrutta il blocco Di Laguzzi Gallo Si alza Gallo Pazzesco Gallo 60 63 Con due secondi Sul cronometro Pazzesco Gallo Pazzesco Gallo Pazzesco Gallo HSC Che ha due secondi Per infilare un canestro da tre Per andare all'overtime Ci prova con Wisnic Che non prende neanche il tabellone Scauri Sbancalone Sport City Vince contro HSC Una partita attirata Decisa Dal numero nove Gallo Con un canestro da tre A due secondi Dal termine Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.